Nuova camper Marostica, porte aperte sabato 20 e domenica 21 ottobre. Uno straordinario weekend per ammirare e provare i migliori camper nuovi, su misura e di qualsiasi dimensione. Camper per disabili con allestimenti speciali, camper professionali per uffici e ambulatori mobili. Robustezza, sicurezza, qualità, comfort e design. Nuova camper Marostica, sabato 20 e domenica 21 ottobre. Porte aperte a Carrè, Vicenza, in via Valdassa 3. Vi aspettiamo con un omaggio e buffet per tutti i camperisti. Seguici anche su Facebook.